GF VIP7, Onestini preoccupato per Donna Maria, la cosa che fa è andare a vomitare. Edoardo Donna Maria al grande fratello VIP7 sta attraversando un momento delicato. A causa dei continui litigi con Antonella Fiordelisi. Nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio. Luca Onestini si è detto preoccupato per il coinquilino, raccontando di aver visto il giovane vomitare di prima mattina. Le discussioni tra Edoardo Donna Maria e Antonella si sono acuite dopo la puntata di lunedì 23 gennaio. La influencer salernitana non ha gradito che il suo partner prima abbia nominato Oriana Marzoli e poi si sia scusato. Fiordelisi ha anche definito Edoardo come uno stratega e ha sostenuto che le avrebbe messo le mani addosso nel corso di una discussione. Tale accuse hanno mandato su tutte le furie Donna Maria, il quale ha affermato che un illazione del genere in un programma come Il Grande Fratello sia gravissima. Parlando in cortiletto con Edoardo Tavassi, Attilio Romita e Micolin Corvaia, Luca Onestini ha confidato di essere preoccupato per lo stato di salute di Edoardo Donna Maria. Nel dettaglio, ha spiegato di non voler più stare zitto in quanto dispiaciuto per quello che sta accadendo al suo amico, quando io vedo uno che si sveglia di prima mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare perché sta di M. Punto appena alzato e non ce la fa più. Io ho bisogno che questa persona la aiuti. Onestini ha ribadito che i continui litigi con Antonella Fiordelisi stanno arrecando un forte stress al giovane volto di forum. A fare ecco a Luca, ci ha pensato Edoardo Tavassi. Il 38enne romano ha spiegato di aver trovato Donna Maria a dormire in giardino scalzo senza neanche una coperta. Nonostante il grande freddo della scorsa sera, Attilio Romita anche si è detto preoccupato. Visto che ha trovato Edoardo parlare da solo in camera. Dopo aver ascoltato i commenti dei suoi compagni d'avventura, Luca Onestini ha ribadito che Edoardo Donna Maria non sta fingendo ma si trova realmente in seria difficoltà. A detta del concorrente emiliano, il coinquilino cerca di nascondersi per non attirare l'attenzione. Al contrario, in ogni gesto di Antonella Fiordelisi ci sarebbe l'intento di attirare l'attenzione su di sé. Le preoccupazioni di Onestini nascono anche da una confidenza ricevuta il giorno prima da Donna Maria. Quest'ultimo ha rivelato di non riuscire a mettere la parola fine al rapporto con la influencer salernitana. Poiché è come se nutrisse una dipendenza affettiva, interrompere una conoscenza all'interno del grande fratello VIP è ancora più difficile. Poiché i due coinquilini sono costretti a convivere 24 ore su 24. che vuoi trovare un'attenzione su di corso di tutta la zonalene e quindi all'interno di noi Grazie a tutti.